no perla non è per te per la maghi perla non è per te questo è della perla questo della perla che va qua e questo è per la maghi prendi sei stata brava prima brava 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 poi prendi lo è buono sai dai lo do la perla se non lo mangi eh tieni non vuoi niente dai fammi contenta brava niente no perla non è per te no perla no perla no riproviamo dai che è buono niente non mi fai contenta non è la perla che rompi i scatole che è ma facciamo una cosa perla viene con me un attimo ho capito forse qual è il problema vieni con me perla ho capito qual è il problema dai vieni con me fuori perla esci dai 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 fuori 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 veloce forse ho capito vediamo se così funziona vediamo se stiamo io e te vai meglio appena è andata fuori ah ho indovinato allora avevi paura della perla ah ho capito però prima avevi mangiato anche con la perla qui brava ho capito allora facciamo così se non va vuol dire che ti dà fastidio che ci sono chicco e perla bravissima brava facciamo un altro tentativo vediamo se mangi un altro biscottino cosa dici vediamo ciao 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 ciao